E' stato sottoscritto da 14 parlamentari e consegnato al Premier Matteo Renzi il documento redatto ieri al termine della conferenza stampa al Senato, indetta dai Comitati Cittadini per l'Ambiente di Sulmona e dal Comitato Interregionale Notubo di Abruzzo, Umbri e Marche. Oggi è avvenuta la consegna direttamente a Palazzo Chigi. In questi giorni incombe fortemente il rischio della decisione per il via libera alla centrale che potrebbe arrivare nel Consiglio dei Milistri del prossimo 21 dicembre. Nessuno vuole questo regalo di Natale ed è per questa ragione che è stato deciso di presentare il documento per chiedere di fermare l'itera autorizzativo alla realizzazione dell'opera e di istituire immediatamente il tavolo tecnico sulle alternative previsto dalla risoluzione approvata il 26 ottobre 2011 dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Alle firme dei nove parlamentari presenti ieri, Pelino, Blundo, Pezzopane, Melilla, Di Stefano, Bacca, Berini, Terzoni e De Petris, si sono aggiunte oggi quelle del senatore abruzzese Gianluca Castaldi del Movimento 5 Stelle e di altri quattro di fuori regione, l'onorevole Raffaella Mariani del PD per la Toscana, l'onorevole Alessia Morani del PD per le Marche, il senatore Vito Rosario Petrocelli del Movimento 5 Stelle per la Puglia e l'onorevole Filippo Gallinella del Movimento 5 Stelle per l'Umbria. Le firme potevano essere stese ancora di più ma vista l'urgenza abbiamo dovuto consegnare il documento per forza oggi, ha spiegato il portavoce dei Comitati Cittadini per l'Ambiente Mario Pizzola, il quale ha esordito nella conferenza stampa di ieri, dicendo che non è ammissibile che a dettare legge siano gli interessi delle multinazionali del gas. Non siamo, ha aggiunto Pizzola, in uno Stato militare ma in un Paese democratico la cui Costituzione sancisce che la sovranità appartiene al popolo e le istituzioni elette dai cittadini sono unanimi nel dire no al progetto della SNAM. I Comitati auspicano che in queste ore decisive di una vicenda che va avanti da ben 11 anni facciano sentire la loro voce anche i massimi esponenti della Regione Abruzzo che ieri benché invitati non hanno partecipato, i quali concludono i Comitati dopo aver promesso di dare battaglia sono invece completamente scomparsi dalla scena.